Strepitoso assolo ed acuto di Vincenzo Albanese della Opla Petroli Firenze che con un'impresa come non si vedeva da molto tempo a Terra Nuova fa propria la 47esima edizione della Ruota d'Oro, la gara internazionale per Elite Dunder 23 che anche temporalmente chiude le feste del perdono della città di Poggio. Una gara da ritmo frenetico fin dai primi chilometri con una fuga di nove uomini sui saliscendi della Sette Ponti ridotti presto a sei per la perdita di tre unità. Tra questi appunto ecco Vincenzo Albanese fresco del passaggio ad agosto al mondo del professionismo delle due ruote che prende un ritmo superiore agli altri compagni di fuga nella discesa dalla cima Berna resistendo poi ad ogni ulteriore tentativo di rientro degli inseguitori e potendo quindi concludere a braccia alzate in viale Europa con un vantaggio di diversi secondi sui rivali. In tre si giocano la piazza d'onore allo sprint, Andrea Vendrame della Zalf mette la propria ruota davanti sia a Michele Corradini esponente della Mastro Marco che a quella di Oliviero Troia della Team Colpac che dunque è beffato e fuori dal podio.